Un gioco terribilissimo Terribile, nel senso che ci sono mostri schifezze ovunque Dice un horror Eh, lo so, però È difficile, fa schifo C'è gente mutata che ti vomita addosso Luna di sangue Ok, la situazione è sempre meglio Ah, già Ok, ora qua devo evitare di ammazzarmi Nel mio viaggio verso il mostro No, no, da lì Apro la porta e mi trovo in questa situazione bellissima Mie Questo è difficile Allora Vai ragazzo, ce la possiamo fare Questa invece è ancora difficile Questa è ancora difficile Su, alzati che spariamo sta roba, alzati Spariamo Che è successo secondo me Dobbiamo decidere quella fa Non basterebbe un squintare di munizioni Allora dovremo prepararle Senti, ci sono dei marchi che fluttuano intorno a me Posso usare questa piastra di ricarica telecinetica e lanciare come aria Ah, ok No, perché fluttuo intorno a me Che schifo si raga, che schifo Che schifo Che schifo si raga, che schifo si raga Che schifo si raga Che schifo si raga Che schifo si raga Ho capito, stavo cercando di usare la cosa ma... Sì, stavo cercando di usare la scuola. Grazie a tutti. 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 Sì, sì, erano rimasti per morire. Sapevano che sarebbero morti. Che romanticone, ma vaffacul... Tu, il tuo nuovo fidanzato, chi non te lo dice? È finito. C'è lei che piangerebbe... Dovevi pensare... Dovevi pensarci un po' prima... Fa un po' impressione anche la vita legata alla colonna vertebrale. Finché era armatura, ma lei c'era direttamente sulla cannottiera. Isaac... 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 Mi senti? Garber... Isaac... è squarito... È squarito. È squarito. È squarito. È squarito. Ce l'hai fatta davvero. Ce l'hai fatta davvero. Eh, che culo. Sono anche morto nel frattempo. Ciao, Mario. Lei torna a casa e non mi frega un cavolo. Ho già sentito che si ribella alle prote di Jambi. Eh, fa bene. Gli hai tirato uno schiaffo. Eh, boh. Questa diretta da ben 12 minuti, eh. È finito. È finito, bello. La trilogia finisce che tu muori. Eh, giusto. Ci sta che non ne fai più. Sì, in realtà anche a me sono piaciuti più l'uno e il due che non... Per me i due sono più belli. Vediamo se c'è un epilogo diverso. Un mega... Megapolico... Gigante. Megapolico di NaC Nostra cosa? E qui almeno? Sì, ho un trapetro migliore della 360 che non avevo giocato... Beh, direi che siamo prontissimi per venerdì notte, quindi... Il nostro prossimo titolo, a parte le dirette giornaliere che facciamo con Earth, sarà Resident Evil 8. Village. Lì finalmente svegliamo se è veramente sexy sta vampiro alta 3 metri. Secondo me c'è da cagarvi sotto e basta. Però... Potrebbe essere antipatica come il Titan, se l'idea è quella. Già qui sto dicendo che Capcom ha detto di solito di sessualizzare un po' i personaggi, effettivamente... Allora, diceva... Non si sentono, quindi devo tradurlo ogni volta. Diceva che... Sì, le ragazze che fanno i vari Resident Evil sono delle buonanze da paura, comunque hanno messo i vestitini. Ora, rendiamoci conto, io non andrei mai con i tacchi a spillo e la minigonna a combattere contro dei cazzo di zombie assatanati. E praticamente ha detto che con un'alta 3 metri non ce l'ha bisogno perché le tette già in proporzione fanno il loro. Eh? Sì, sì. Sono solo le puttanelle che fanno i cosplay che non sono vestite. Quelle... Quelle purtroppo ce le portiamo dietro, una piega dalla società. Speriamo ci sia un filmatino alla fine. Speriamo ci sia un filmatino alla fine. Speriamo ci sia un filmatino alla fine. Ciao, Delot. In realtà abbiamo finito subito, c'era il boss finale, 17 minuti e no. E quasi Quasi Effettivamente gli splatter ce n'hanno parecchio Però Quentin Quentin è poco spaziale Poco alien Sembra più alien Quale anime? Allora intanto non è un anime Grazie a Dio, maledizione a tutti i giapponesi Io vi odio tutti Ok Su Prime Video c'è un corso animato Dal disegno prettamente americano Se volete vederlo è una figata allucinante Mancano ancora due episodi a noi Però lo trovo veramente fighissimo Sia per come sono scritti i dialoghi Sia per quanto splatter Sia per tutto Ci sono un po' di parolacce in mezzo Quindi Ci sono bambini piccoli Anche se è un cartone animato Non è bene che lo vedano i bambini piccoli Poi si è splatter Nel senso che proprio vedi l'interiore Delle persone che ammazzano Quindi non... No è bello, mi piace Non è che mi piaccia per quello Però è fatto bene A me anche piace la pesca Jumpy no Perché è praticamente allergico Non so se effettivamente è allergico Solo non gli piace Lo dice perché così Così se la evita completamente Sia vogliamo un filmato finale In cui magari Magari ce lo fai vedere Che non è del tutto morto Che moia, sì Direi che dopo tutto quello che è passato Ci sta anche una chiusura così Eh ma le lettere sbagliate Sono le lettere che ci sono Nelle steli Quindi non è che sono sbagliate Sì poi tra l'altro Sta andando velocissimo Quindi Ok Sì Sì È vivo E non si capisce se poi morirà vagando nello spazio Senza ossigeno Gesù mio Va bene ragazzi Ci siamo divertiti anche con questo Ci vediamo Ci vediamo